Benvenuti ragazzi, io sono greco.basta08 e oggi c'è un nuovo video. Oggi questo è il mio ultimo video che ho fatto sul telefono e oggi voglio fare una sede Mi faccio il primo episodio di N.O.O. Un gioco scaratutto dove! Fa una sede. Mette la meta. Amore, sono maschi! Accetto! no, no no, no no, no aspetta 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 em aspetta aspetta o aspettiamo che si carichi risveglio brutale ok questo video lo sto facendo alle 9 3 e vorrei salutare uno dei miei amici che è rarish giù in descrizione del canale ciao e giuliano poi giuliano poi samuele ciao samuele e poi luca ciao luca saluto andrea ciao andrea e saluto fabio ciao fabio e basta e qui io ciò già giocato io ciò già e poi andiamo insieme Sì a fare un sottotitolo Ero da l'espo. 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 e ragazzi vorrei anche salutare Elia ciao Elita sì Elita Elia e ragazzi guardiamo i commenti e resta minuti e vi 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 abbiamo detto i 7 iscritti in un genio 3 su i 6 7 iscritti in un genio e in un vi 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 e il nostro bucato e il nostro bucato uso e il nostro bucato aspettiamo facciamo anche questa missione e questa è la stuca per continuare e a ников a strip un a e 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti